Il signor Montalban vorrebbe unire le sue forze a quelle di Pongo. Abbiamo calcolato un profitto di 10 milioni. Allora, firmiamo i contratti? Ha tutto quanto un cane possa desiderare. Basta per imparare una lezione. E non sarà facile. Non sei più il cane milionario e nessuno deve sapere chi sei. Dovrà superare sfide impossibili. Da qui non si scappa. È così tenero. Dovrà affrontare strani fenomeni. Fragolina adorava la zuppa. Sarete una bella coppia. Mostrando al mondo le sue toti nascoste. Ha provocato inondazioni, distrutto case e causato attacchi d'ansia. Questo cane è l'anticristo dei cani. Quest'autunno. Tra avventure. Corri! L'unico che può ritrovare Pongo? Sei tu. O dovrai cambiare ragazza. Dispetti. No, 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 no. Azioni. Qual è il piano B? È questo il piano B? Scherzi, vero? Divertimento. È tutto quello che non si può comprare con i soldi. Non ci penso neanche a uscire. Ho capito, andiamo. Un uomo molto cattivo. Una gran bella ragazza. E un cane che è un tesoro. Però gli voglio bene. Bongo, il cane milionario.